Teodora, imperatrice di Bisanzio, una donna tra leggenda e realtà. Dalle umili origini al trono imperiale, nata intorno al 510, Teodora ebbe una vita avventurosa prima di salire al trono di Bisanzio. Le sue origini sono incerte, con alcune fonti che la descrivono come figlia di un addestratore di orsi e altre che la ipotizzano di discendenza aristocratica. La sua giovinezza fu segnata da esperienze che forgiarono il suo carattere, viaggi in diverse città, l'esposizione al teatro e all'arte, e un matrimonio con un uomo di basso rango. L'incontro con Giustiniano, nel 522 d.C., Teodora incontrò il futuro imperatore Giustiniano I. La sua bellezza, intelligenza e ambizione lo conquistarono e, nonostante le resistenze della corte a causa del suo passato, la sposò nel 525 d.C. Un'imperatrice regnante, Teodora non fu solo consorte, ma una vera e propria imperatrice regnante. Affiancò Giustiniano nelle decisioni politiche, offrendo il suo acume e la sua tenacia. Fu determinante nel reprimere la rivolta di Nica del 532 d.C., mostrando coraggio e fermezza. Difesa dei diritti delle donne, Teodora si distinse per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne. Promulgò leggi che migliorarono la loro condizione sociale, tutelando le donne contro la violenza domestica e garantendo loro il diritto di proprietà e di eredità. Sostenitrice della Chiesa Ortodossa, l'imperatrice era una fervente cristiana e sostenne la Chiesa Ortodossa. Si oppose alle eresie e promosse la costruzione di chiese e monasteri.Un'eredità controversa, Teodora è una figura storica complessa e controversa. La sua fama è stata offuscata da accuse di immoralità legate al suo passato, ma la sua influenza politica e il suo ruolo di innovatrice sociale sono innegabili. Teodora nella cultura, la sua figura ha ispirato artisti, letterati e registi. Il film Teodora, imperatrice di Bisanzio del 1954, ne ha immortalato la bellezza. Teodora fu una donna straordinaria che lasciò un segno indelebile nella storia dell'impero bizantino. La sua scesa al trono e il suo impegno politico la rendono un esempio di emancipazione femminile e di potere. La sua complessità e le sue contraddizioni la rendono un personaggio affascinante e ancora oggi oggetto di studio e dibattito. Teodora, le relazioni con figure chiave, Giustiniano I, il loro matrimonio fu un'unione politica e personale di grande successo. Teodora fu consigliera e collaboratrice di Giustiniano, sostenendolo nelle sue ambizioni e fornendogli il suo acume politico. Belisario, il famoso generale bizantino era legato a Teodora da un rapporto di fiducia e reciproco rispetto. Si presume che l'imperatrice abbia avuto un ruolo nella sua carriera militare. Antonina, moglie di Belisario, la sua relazione con Teodora era complessa e a tratti conflittuale. Le due donne si contendevano l'influenza su Giustiniano e divergevano su alcune questioni politiche. Ruolo nella politica estera e militare. Teodora svolse un ruolo attivo nella politica estera e militare dell'impero. Fu determinante nella decisione di attaccare il regno dei vandali in Africa e supportò le campagne militari di Belisario. Inoltre, si occupò di diplomazia e intrattenne relazioni con ambasciatori e sovrani stranieri. Stile di vita e mecenatismo artistico, Teodora conduceva una vita opulenta nel palazzo imperiale. Era amante del lusso e della bellezza. E si circondava di artisti, letterati e filosofi. Teodora promosse la costruzione di chiese e monasteri e finanziò opere d'arte che celebravano la sua figura e il potere imperiale. Confronto con altre imperatrici bizantine, Teodora si distingue dalle altre imperatrici bizantine per la sua ascesa al trono da umili origini e per il suo ruolo attivo nella politica. Fu una donna di grande intelligenza e ambizione, che non temeva di sfidare le convenzioni e di difendere le sue posizioni.Eredità e influenza, Teodora lasciò un'eredità duratura sull'impero bizantino. Le sue riforme a favore delle donne, il suo sostegno alla chiesa ortodossa e il suo mecenatismo artistico hanno avuto un impatto significativo sulla società e sulla cultura del tempo. La sua figura rimane controversa, ma la sua forza e il suo coraggio la rendono un'icona di emancipazione femminile. Conclusione, Teodora fu una figura complessa e affascinante che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Il suo ritratto completo ci permette di comprendere meglio la sua influenza sull'impero bizantino e il suo ruolo, di donna di potere in un'epoca dominata dagli uomini.